Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Partiamo da Torriammare dove si sono verificati diversi episodi di microviolenza compiuti negli ultimi mesi da minori. Per questo mamma e papà hanno deciso di darsi appuntamento in piazza e incontrarsi per trovare delle soluzioni. Vediamo come è andato. I genitori in cerchio al centro della piazza. L'appuntamento fissato dal paraco di quartiere attraverso un messaggio Whatsapp. E' così che la comunità di Torriammare prova a dare una risposta ai diversi episodi di microviolenza avvenuti sul quartiere. Protagonisti soprattutto minori, bulli, come spesso si usa a chiamare i protagonisti di certi fenomeni, più semplicemente ragazzi normali, vittime si stessi delle loro bravate. C'è una lunga lista di episodi ripetutisi in questi mesi, dagli animali colpiti a sassate con una fionda, i vetri delle auto in sosta danneggiati in serie, arrivando a uno degli ultimi episodi, un ragazzino picchiato proprio a pochi passi dalla Torre Pelosa. Sono le mamme e i papà preoccupati, per quanto sta avvenendo a raccontare i fatti, a proporre soluzioni, in alcuni casi anche a fare mea culpa per aver troppo spesso demandato l'intrattenimento e poi l'educazione dei propri piccoli alla luce a led degli smartphone. La famiglia non deve mai abbandonare i ragazzi, seppur giunti a una certa età, quando lasciamo uscire di casa da solo il ragazzo per affrontare la quotidianità. A rispondere all'appello, per quello che sia chiaro, è un problema di una generazione e non di un quartiere o di una città, sono state anche le istituzioni. L'assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano, il presidente del municipio Lorenzo Leonetti e tanti consiglieri erano a Torre Amare, mentre l'assessore al welfare Francesca Bottalico ha già offerto la disponibilità del gruppo degli educatori di strada. Tutti hanno risposto alla chiamata di Don Fabio Carbonara, che si è fatto aggregatore attorno alla chiesa di San Nicola e alle attività della sua parrocchia del desiderio di reagire di una bella comunità come quella di Torre Amare. Per me il social non è più il luogo dove discutere, lo dico proprio senza timore, il social è il luogo dell'avvio, dopodiché per discutere ci vogliono le persone in mezzo alla piazza e quindi ci siamo dati appuntamento questa sera ed è emerso, perlomeno qua è la prima problematica da affrontare, il fatto che i ragazzi abbiano bisogno di punti di riferimento. Vediamo l'inchiesta che riguarda l'ex magistrato Bellomo. Minigonna e Tacco 12, obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo, punizioni in caso di violazione del codice di comportamento e richieste di scusa da pronunciare in ginocchio. C'è questo ed altro nell'ordinanza di custodia cautelare della magistratura barese che ha ammesso agli arresti domiciliari l'ex giudice del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo, 49enne barese, è accusato di maltrattamenti nei confronti di quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della scuola di formazione giuridica avanzata, diritto e scienza, di cui Bellomo, destituito dalla magistratura e tuttora direttore, risponde anche di estorsione nei confronti di un'altra corsista costretta a lasciare un lavoro in una emittente locale. I fatti contestati risalgono agli anni 2011-2018. E siamo all'incidente ferroviario, la strage lo ricorderete tra Andri e Corato, un ricorso in Cassazione contro il provvedimento di ricusazione dei giudici di Tranni è stato depositato dai difensori di alcune parti civili costituita nel processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio del 2016 sulla tratta tra Andri e Corato causò la morte di 23 persone, il ferimento di altri 55 passeggeri. Gli avvocati Andrea Moreno e Giuseppe Modesti chiedono l'allunamento del provvedimento della Corte d'Appello di Bari lamentando la mancanza di contraddittorio nell'udienza del 20 giugno in cui si discuteva la richiesta di ricusazione fatta dai legali della società ferro-tranviaria imputata nel processo dinanzi ai giudici tranesi. La violazione del contraddittorio appare grave e concretamente lesiva degli interessi della parte civile, si legge nell'atto di impugnazione. Intanto, dopo la nomina di un nuovo collegio di giudici, il processo sul disastro è ripreso nei giorni scorsi. E attimi di panico ieri sera a Bari in Piazza Moro per una rissa che ha coinvolto alcuni extracomunitari e un gruppo di giovani baresi a ricostruire quanto accaduto. Ci hanno pensato i carabinieri che hanno arrestato due cittadini gambiani di 19 e 22 anni, entrambi incensurati per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e nel caso del 22enne, anche per lesione e rapina aggravata. I fatti sono accaduti intorno alle 21, quando i due arrestati, insieme a una terza persona in corso di identificazione, hanno aggredito per futili motivi diversi passanti occasionali. Tra questi, anche due minorenni, un 17enne ferito al braccio con un frammento in vetro e una 16enne. Nella stessa circostanza, uno dei due arrestati, anche derubato della somma contante di 250 euro, un 26enne di passaggio minacciandolo con il collo infranto di una bottiglia in vetro. L'intervento delle forze dell'ordine non ha calmato i due stranieri che, al contrario, al fine di sottrarsi all'identificazione, hanno posto resistenza e assalito i militari. Al termine delle formalità di rito, i due stranieri arrestati sono stati ristretti in carcere in attesa di giudizio. E questo non è che uno degli ultimi episodi di cronaca accaduti proprio in Piazza Moro. Oggi siamo andati lì in zona per raccogliere e lamentare di molti residenti che chiedono più controlli della forza dell'ordine. Sentite. Sarebbe stata una parola di troppo da parte di uno straniero nei confronti di una ragazza di 16 anni a provocare la rissa che ha seminato attimi di panico ieri sera in Piazza Moro. Un violento litigio accaduto poco prima delle 21, che ha visto coinvolti alcuni extracomunitari, un gruppo di giovani baresi. Sul posto è immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno cercato di placare lo scontro e hanno arrestato due giovani cittadini gambiani di 19 e 22 anni per esistenza e lesione a pubblico ufficiale e nel caso del 22 anni anche per lesione rapina aggravata. L'ennesimo scontro che pone Piazza Aldo Moro, teatro di episodi di violenza, sotto gli occhi di turisti e cittadini baresi che richiedono più controlli nella zona. Siamo abbastanza rammaricati di questo ennesimo episodio violento. Nel tempo abbiamo detto più volte che questa piazza e tutta questa zona deve essere riqualificata. Avvengono risse, c'è lo spaccio, ci sono tutta una serie di cose che a noi non stanno bene. E quindi più volte abbiamo chiesto il recupero e l'intervento delle istituzioni. Ci sono state, ma non sono sufficienti. La stazione è un punto molto importante, sia perché arriva gente, arrivano i turisti, e il biglietto da visita della città, o meglio, l'ingresso della città, che poi trova Piazza Mora e poi trova Piazza Umberto. Quindi noi dobbiamo prepararci a migliorare questa zona e a frequentarla. E la denuncia di episodi simili all'ordine del giorno nella piazza della stazione centrale di Bari arriva anche dai commercianti della zona, che si dichiarano stanchi della situazione e che richiedono interventi da parte delle istituzioni per far sì che Piazza Aldomoro diventi un buon biglietto da visita della città di Bari. La stazione è che dovrebbe essere un bigliettino da visita per chi viene da fuori, quindi chi viene da fuori vede questo scempio tutti i giorni. Quindi ci vorrebbe un po' più di controllo, un po' più di pulizia. Nessuno stop per il cantiere di Piazza Redentore. La conferma arriva dall'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso. Sentite. Si temeva un blocco dei lavori sul cantiere della piazza Antistante in Redentore, nel cuore del quartiere Libertà, ma l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso tranquillizza tutti. Una querelle tra Palazzo di Città e Sovrintendenza sui sei alberi di pino presenti da eliminare e poi da ripiantare, sostituiti con altre essenze arboree per Palazzo di Città, che da anni fa i conti con i problemi che i pini comportano al manto stradale, con la fuoriuscita delle radici che si trasformano in un pericolo per vetture e pedoni. Ma la sovrintendenza punta i piedi, i pini devono essere ripiantati. Una querelle a quanto pare superata e dunque nessun blocco del cantiere. Abbiamo trasmesso alla sovrintendenza quanto prescritto, poi c'è stato un ritorno di corrispondenza in cui sembrerebbe loro gradiscono la ripiantumazione dei sei pini, che però ovviamente va in contrasto con quelle che erano le prescrizioni già approvate in precedenza del progetto, oltre al fatto che è illogico dover piantumare dei pini in una piazza che viene completamente rifatta. Quindi assolutamente nessun problema, abbiamo chiarito tutto quanto, c'è una risposta che gli uffici hanno provveduto a inoltrare proprio in questi giorni e conseguentemente i lavori procederanno speditamente. Un'opera di Arnaldo Pomodoro sarà esposta per un anno dinanzi alla nuova sede del Consiglio regionale della Puglia, un disco in forma di rosa del deserto messo a disposizione dall'ingegnere Stefano Zorzi che abbiamo intervistato. Ingegner Zorzi, da appassionato di arte è un bel messaggio che lei oggi offre alla Puglia, ossia mettere a disposizione questa grandissima opera di Pomodoro qui davanti all'ingresso dell'istituzione più importante. Sì, questo è uno spazio enorme per cui non aveva molto senso mettere un oggetto più piccolo di questo. Mi piace ricordare che questa scultura è più grande di quella davanti alla Farnesina e fa parte della serie delle sculture monumentali di Pomodoro e penso che possa essere un bel landmark per chi viene qui e vuole vedere la prospettiva del palazzo delle istituzioni in un modo un po' più moderno. Si chiama Disco a forma di rosa del deserto, come dicevo ricorda le rose del deserto che sono quelle pietre modellate dal vento e dalla sabbia. e Pomodoro è il più grande scultore vivente italiano, riconosciuto da tutti come tale, molto internazionale, conosciuto in tutto il mondo, le sue opere sono ovunque in Europa, negli Stati Uniti. Prime visite mediche per i giocatori della S6C Bari, oggi il turno di Floriano, Neglia e Simeri, domani toccherà invece alla restante parte della vecchia guardia bianco-rossa. Sentite. Simone che ha detto il dottore? Tutto bene, sono edonio, tutto a posto, siamo carichi, non vediamo l'ora di iniziare perché quest'anno sarà un anno molto combattuto, come è stato anche l'anno scorso. Quest'anno abbiamo fatto quello step che tutti ci aspettavamo con la speranza che va bene come è andata quest'anno. Ai tifosi bianco-rossi che cosa ti senti di dire? Di sostenerci come hanno sempre fatto e li aspetto a Bedollo. Il bentornato te l'hanno dato? Sì, ma voglio, tanti, tanti. Questo mi fa piacere perché vuol dire che ho lasciato qualcosa di importante l'anno scorso. Come stai innanzitutto? Che cosa dicono i dottori? Tutto a posto, per fortuna, pure per quest'anno sto bene. Ti è mancata Bari? Beh, sinceramente fa sempre piacere ritornarci, quindi sono molto, molto, molto contento di stare qui. Sì, mancano ancora le ufficialità, però insomma questo Bari è una gran bella corazzata, soprattutto lì davanti. Uno stimolo in più per te? Sì, sicuramente la società sta lavorando molto bene nel mercato, quindi se dovessero arrivare i giocatori importanti che possono essere utili alla causa ci farebbe molto, molto piacere. Ai tifosi che cosa ti senti di dire? Io ci metterò sempre il massimo impegno, come l'anno scorso e anche di più. Bene, ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Tra poco torniamo con la rassegna stampa in compagnia di Michele Cristallo, giornalista scrittore. Tra poco. Ed eccoci ancora qui in diretta per la nostra consueta rassegna stampa, oggi in compagnia di Michele Cristallo, giornalista scrittore. Ciao Michele, buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Tra poco ci collegheremo con il nostro live, oggi stiamo seguendo la festa realizzata all'interno di San Cataldo per i 150 anni del Faro. Magari abbiamo modo di parlarne, visto che partecipano anche le reti civiche urbane, grandi protagonisti di molti eventi sul territorio cittadino. Partiamo dalla politica, come sempre facciamo Michele, perché c'è stata una lettera da parte della Bellanova, tra l'altro una sorta di candidata in pectore all'interno delle primarie del centro-sinistra per le prossime regionali 2020. È una lettera contro tutti e tutto, nel senso che ovviamente focalizza la sua attenzione sulla dirigenza del Partito Democratico e ne ha anche per Emiliano. Intanto bisogna dire che da un po' di tempo Michele Emiliano è sotto assedio, è sotto assedio non soltanto dei partiti di opposizione, ma è sotto assedio anche nella sua stessa maggioranza. La lettera di Teresa Bellanova, la quale tu hai accennato, è l'ultimo episodio di contestazione al governatore, ma anche alla conduzione del Partito Democratico in Puglia. Infatti il bersaglio della Bellanova sono sia Emiliano sia Lacarra, il segretario regionale del partito. Emiliano è sotto attacco perché è contestato non soltanto per le scelte che ha fatto, le scelte di alleanze che ha fatto anche recentemente con l'attribuzione di alcuni incarichi a personaggi che non hanno una rispecchiata carriera politica del Partito Democratico o nel centro-sinistra. E poi è sotto contestazione, sotto assedio per certe scelte politiche in materia di agricoltura, in materia di sanità e in materia di occupazione. Le dimissioni dell'assessore all'agricoltura, Leonardo Di Gioia, mentre hanno in un certo senso sopito la mozione di sfiducia che era stata presentata contro Di Gioia, ma l'indirizzo vero era contro Emiliano, nei consiglieri del centro-sinistra il futuro, si è inasprita con le date indicate per le primarie. Prima di insorgere è stata la Elena Gentile che non gradisce che le primarie come vorrebbe Emiliano vengano fatte in autunno, ma nelle prime settimane del 2020. Ora c'è questa sortita di Teresa Bellanova. Teresa Bellanova è un'autorevole esponente del rezzismo in Puglia. E però anche all'interno della corrente di Renzi, di cui Bellanova è espressione, c'è anche una sorta di marette. Tant'è che il rappresentante del rezzismo in Puglia, Fabrizio Ferrante, il giovane tranese Fabrizio Ferrante, ha detto che bisogna passare dalle parole ai fatti. E se la Bella Nova è in contrasto con Emiliano e vuole impegnarsi seriamente, che sciolga le riserve per presentarsi alle primarie. Quindi Emiliano rischia di trovarsi alle primarie due donne contro, Elena Gentile della Capitanata, ex assessore regionale, non dimentichiamolo, e Teresa Bellanova, Brindisina, ex viceministro dell'economia, ex sindacalista, insomma un nome che ha un calibro piuttosto spesso nella regione Puglia. E poi ci sono gli altri partiti, c'è il Movimento 5 Stelle che non ha ancora sciolto le riserve, infatti gli aspiranti alla candidatura alla regione sono due. C'è l'uscente consigliere uscente Laricchia e c'è anche un altro consigliere regionale che mira alla candidatura. In Forza Italia si è ancora in attesa delle decisioni di Berlusconi, i due coordinatori nazionali avevano tentato di congelare l'attività dei coordinatori provinciali e regionali, invece Berlusconi li ha ressuscitati. L'estate, secondo te Michele, sarà risolutiva per la scelta almeno del candidato di centrodestra, visto che parte in svantaggio, come sempre accade per l'opposizione? Indubbiamente, il centrodestra è in ambasce non soltanto per le vicende interne di Berlusconiane, di Forza Italia, ma anche dentro Fratelli d'Italia non è che le acque siano tranquille perché c'è anche lì qualche contrapposizione sulla indicazione dei nomi. Meloni deve dar conto anche a Fitto, c'è stata quella coalizione alle europee e quindi la scelta dovrà venire dall'accordo tra i due e certamente non sarà un accordo facile. Poi c'è da vedere come si comporteranno i pugliesi che hanno appoggiato alle amministrative barese, hanno appoggiato Antonio De Caro e come si comporterà il dimissionario Leonardo Di Gioia, che ha secondato la candidatura di Casanova che è il candidato leghista. Le simpatie leghiste di Di Gioia non sono un mistero, potrebbe anche, come qualcuno ha ipotizzato, l'abbiamo detto anche noi in una di queste trasmissioni, abbiamo ipotizzato un Di Gioia avversario di Emiliano, il rappresentante della Lega alle europee dell'anno prossimo. Insomma la situazione politica è tra il confuso e l'incerto e quindi l'opinione pubblica è in attesa e in questa attesa è piuttosto disorientata. Allora intanto chiedo, lui mi ha la regia, non appena saremo pronti con il nostro collegamento Lavi da San Cataldo, di avvisarmi in modo tale da trasmettere, vedere come sta andando. Noi nel frattempo ci occupiamo di un altro tema che abbiamo affrontato all'interno del nostro telegiornale. Ieri sera c'è stata una nuova risa, l'ennesimo episodio di violenza che accade in Piazza Moro e che ha suscitato ovviamente le incandescenze di molti residenti che sono stanchi di dover convivere con questi episodi di violenza, microcriminalità che pesano, pare stiano aumentando anche i furti in abitazione, questo ci hanno detto a denti stretti molti dei residenti, chiedono più controlli. Ricordiamo anche che in Piazza Umberto, zona limitrofa a Piazza Moro, c'è stato anche il posizionamento dell'esercito che però non ha sortito chissà quali effetti. Piazza Moro e Piazza Umberto sono diventate delle zone caldissime. Nei lureserali è pericoloso attraversarli per la presenza di gente malintenzionata per non usare altri sostantivi. È una zona che ha bisogno di un controllo costante e di un controllo fisso. Nonostante l'illuminazione Piazza Umberto per esempio non è diventata affatto sicura come si prevedeva. Piazza Moro poi non ne parliamo. Piazza Moro è in balia di extracomunitari pericolosi, è in balia di spacciatori, è in balia di nulla facenti che passano lì il tempo in attesa che accada qualcosa. La rissa, la maxi rissa che ha coinvolto oltre 20 persone ieri sera è un fatto emblematico di quanto la violenza in quella zona sia ormai un fatto quotidiano. Le stesse forze dell'ordine hanno dovuto impegnarsi a fondo per sedare la rissa, cercavano di non venirne a capo e hanno dovuto sostare lì fino oltre alla mezzanotte perché i focolai di violenza si sono riaccessi più volte. E chissà se non sarà necessario controllare ancora perché certamente ci sarà un ritorno per le vendette di rito. Allora siamo pronti per il nostro live, oggi c'è stata iniziata da poco la festa San Cataldo per i 150 anni del Faro, ce la racconta Barbara Cirilli. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui nel giardino del Faro, Faro che compie 150 anni e per festeggiarlo importanti sono le iniziative organizzate proprio qui in questo giardino che è stato adottato dal gruppo di genitori dell'Istituto Marconi che oggi insieme alla rete civica di questo municipio ha organizzato questa serata dedicata alla letteratura, alla musica ma soprattutto dedicata a questo quartiere. Sì, allora il progetto è di rete civica urbana Marconi-San Cataldo-San Girolamo-Fesca e i festeggiamenti per i 150 anni del Faro di Punta-San Cataldo costruito nel 1869 in realtà coinvolgono quattro quartieri. E da questo momento, con questo evento, noi vogliamo che il Faro acquisisca una dimensione ampiamente cittadina perché come genitori marconi abbiamo da sempre portato avanti già quando eravamo gruppo informale e adesso ancora più come associazione di promozione sociale un'idea di cura dei beni comuni in un'ottica di condivisione. I beni culturali vanno assolutamente tutelati. Noi oggi abbiamo cercato anche di proporre un'organizzazione che permettesse una fruizione serena nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anche perché questo bene è di proprietà tuttora della Marina Militare. Però crediamo che i beni culturali debbano essere sempre di più messi a disposizione delle persone. Soprattutto della città, di questa città che magari il Faro lo vede spesso da lontano e non lo vive non lo vive in questo giardino che in tutti i modi state cercando di far rivivere quindi complimenti a voi che ce la state mettendo tutta soprattutto per farlo vivere ai più piccoli. Allora in realtà il progetto a cui tu ti riferisci è il giardino condiviso della scuola Marconi che è sempre qui via del Faro 6. Questo giardino invece è ancora sotto l'egida della Marina Militare e quindi non vi è un accesso pubblico. Però state organizzando tanti eventi qui anche con la parrocchia, insomma lo vivete questo giardino? Allora noi stiamo iniziando, appunto abbiamo in risposta al bando Rete Civiche Urbane costituita la nostra rete civica che contempla l'apporto di 10 diverse associazioni e comitati abbiamo risposto a questo bando perché condividiamo l'idea di questa amministrazione comunale di promuovere sempre di più una programmazione di attività socioculturali assolutamente partecipate e che quindi partano autenticamente dal basso. E noi speriamo ovviamente che questo accada, intanto ringrazio Terri Marinuzzi noi ci facciamo un giro per vedere che cosa accadrà questa sera, grazie ancora. Grazie Barbara soltanto a sottolineare questo, allora questo è un progetto di Rete Civica Urbana nello specifico l'evento di oggi che inaugura i nostri eventi dedicati ai 150 anni del Faro è promosso ed organizzato da PS, Associazione di Promozione Sociale Genitori Marconi in collaborazione con Alex Sot, Marina Militare naturalmente e Associazione Residenti San Cataldo. Grazie ancora, linea lo studio, a tra poco. Grazie Barbara, i fari hanno un fascino tutto particolare, non ti a negarlo ed è bello comunque neppropriarsi della nostra storia. Il fascino è una storia tutto particolare, il paesaggio portuale marino della Puglia che è punteggiato da questi colori che indicano la giusta rotta ai naviganti, il Faro barese celebra 150 anni e fu inaugurato all'indomani dell'Unità d'Italia, però prima c'era stato anche il Faro di Molfetta, è stato il primo faro costruito e inaugurato da Ferdinando II di Borbone verso la fine degli anni 40 dell'Ottocento. Tu dicevi giustamente, sono una presenza suggestiva oltre che utile e Enrica Simonetti Scusate, il bello della diretta, lo dobbiamo dire, il bello della diretta, Michele ha dimenticato il cellulare acceso e sta squillando in diretta, non risponderemo al telefono per sapere chi è. Enrica Simonetti ha scritto un bellissimo libro sui fari, chiedo scusa ad Alessandra, chiedo scusa soprattutto ai telespettatori, ma sono incidenti che capitano. E poi il bello della diretta, come giustamente ha detto, dicevo Enrica Simonetti ha scritto un bellissimo libro sui fari di Puglia e stasera nel corso di questa cerimonia dei 150 anni se ne parlerà, viene presentato ancora questo libro, non è una novità editoriale, ma è un libro sempre, come dire, evergreen, ecco come si dice. Dicevo, i fari sono di una suggestione incredibile, non so se ti è mai capitato, sarà capitato a tantissimi che ci ascoltano di osservare il nostro faro dall'alto della muraglia o da altre zone del lungomare, questo colore che gira con una cadenza sempre normale, non so, da stare lì a contare i secondi quando fai il giro completo. E poi se è capitato a qualcuno, come ho avuto la fortuna io, di guardare sopra, di salire e poi c'è il panorama dell'Adriatico, non soltanto del nostro mare, della nostra fetta di mare e di una suggestione incomparabile. È un'emozione che chi avrà la fortuna, oggi ci sarà anche una visita, di salire fin su nella saletta di controllo, è una suggestione che non si dimentica facilmente. Allora, noi siamo in chiusura di questa nostra segna stampa, Michele, ci salutiamo perché va in soffitta, almeno il Tg commentato, come sto dicendo in questi giorni, e partiamo con un'edizione senza ospiti, un'edizione in cui non mancheranno chiaramente l'informazione, i fatti di questa giornata. Arrivederci alla prossima stagione, insomma. A settembre ne vedremo delle belle, come sempre con la ripartenza della Fiera d'Alevante. Bene, grazie e buonasera. Grazie a Michele Cristallo per essere stato con noi, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e torniamo tra poco con altre noti. Ed eccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla sanità perché l'ex centrale del latte diventa un nuovo presidio sanitario per i baresi. Questa mattina la firma del protocollo d'intesa tra Comune di Bari e ASL Bari. Sentiamo. È un poliambulatorio, una sorta di policlinico territoriale che realizziamo proprio di fronte al Policlinico, dove ci saranno 12 ambulatori con 12 branche specialistiche. Il CUP unico, questa volta davvero unico perché partirà la sinergia tra la ASL e il Policlinico di Bari in modo da offrire un unico servizio di prenotazione ambulatoriale tra le due strutture. Credo sarà un servizio innovativo che incontrerà le esigenze dei cittadini baresi. Il Comune di Bari mette a disposizione l'ex centrale del latte in Viale Razio Flacco e l'ASL di Bari attraverso i fondi FESR la rimette a nuovo per la creazione di un nuovo polo ambulatoriale che ricalchi l'esempio vincente del quartiere San Paolo. Questa mattina la firma del protocollo d'intesa a Palazzo di Città tra sindaco Antonio De Caro e direttore generale dell'ASL di Bari Antonio Sanguedolce, entrambi soddisfatti dell'intesa che porterà alla città di Bari un aumento dell'offerta in fatto di servizi sanitari. Un modo anche per decongestionare il vicino Policlinico e radicare il concetto di medicina territoriale. Sullo schermo è l'architetto Netti a presentare nel dettaglio il progetto di riqualificazione. Al tavolo invece anche il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore. Questa struttura dell'ex centrale del latte è molto importante perché una volta ristrutturata darà un ulteriore polo territoriale per la città di Bari. Ricordo che tra le prime cose che furono chieste l'ASL di Bari quando arrivai dal sindaco proprio De Caro qualche mese fa era proprio trovare una sede adeguata proprio in quella zona, al di là dei binari per intenderci della città. Questa è proprio quella sede giusta. L'ASL di Bari, come ha detto il sindaco, la ristrutturerà con i fondi europei più di 5-6 milioni di euro circa. La Polizia Locale ha proceduto alla rimozione dei nassi e delle transenne che delimitano l'area del litorale a sud interdetta alla balneazione da venerdì scorso a causa della rottura dell'impianto di sollevamento di Torre del Diavolo di Acquedotto Pugliese. Gli esiti degli ultimi prelievi delle acque effettuati da Arpa Puglia domenica scorsa sono positivi ed evidenziano valori in linea con quelli previsti dalla legge in tutti i punti di balneazione nel tratto del lungomare di Cagno Brescia che va da Torre Coetta a Lido il Trullo dove dunque è nuovamente possibile fare il bagno. E dunque torniamo al nostro live. Stiamo seguendo la festa per i 150 anni del faro di San Cadaldo. Allora torniamo da Barbara Cirillo. E allora Alessandra, visto che è sempre in giro per la Puglia per presentare il suo libro ma non solo, l'ho raggiunta io questa volta. Enrica Simonetti buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Enrica ne avevamo già parlato del tuo libro, un libro tutto dedicato ai fari, insomma il simbolo di questo quartiere comunque della città di Bari è proprio qui alle nostre spalle. Un pomeriggio organizzato dai cittadini, dal comitato della scuola Marconi, dalla rete civica urbana di questo posto che ovviamente vive il mare in una maniera tutta sentimentale e soprattutto quotidiana. Sì, quotidiana perché questo luogo a cui io sono particolarmente affezionata, non stiamo festeggiando solo il suo compleanno, compie 150 anni quest'anno ed era significativo aprirlo a tutti, ma questo luogo deve rinascere, deve essere aperto al pubblico. Io lo dico deve, non sono nessuno, sono soltanto una studiosa e ho visto che uno dei fari più interessanti dell'Adriatico è proprio il nostro di San Cataldo. Pensate che qui sono successe tante cose, ci sono tante storie, non solo quelle del primo novecento con Marconi che ha provato le onde tra Bari e Bar, ma qui ci sono storie. Una piccantissima anche di un amore che nacque qui, proprio lì al secondo piano, su quelle finestre tra la moglie di un guardiano del faro e l'altro guardiano, era a fine ottocento. Questa cosa in una Bari molto diversa da quella di oggi creò un grande scandalo e quindi oggi ripercorrere tutti questi eventi, tra l'altro di questa situazione ho trovato traccia all'archivio di Stato di Bari, quindi le ricerche posseggono anche tutti questi documenti dove si parla con un linguaggio, insomma, forbito senza voler entrare di questa cosa e questa briga tra affaristi. Insomma, tutto quello che è accaduto qui ha una storia e se i fari sono magari un simbolo che sta per scomparire non è giusto che si cancelli la loro storia. Questo libro che è edito da Adda e che fa un viaggio in tutta la Puglia attraverso quattro capitoli diversi, partiamo dal blu e partiamo proprio da un faro che è il faro delle isole Tremiti. Ci sono le splendide immagini di Nicola Amato che ha fatto con me questo viaggio e ci sono moltissimi fari perché noi riteniamo che fare un viaggio in luoghi meno conosciuti significa anche esplorare storie, non solo la storia, quella con la S maiuscola. E insomma, tu poi ce l'hai raccontata, qualche mistero che alleggia intorno a questo faro, un faro che vuole tornare a vivere come questa iniziativa, una delle tante, noi speriamo, che possano aumentare sempre di più perché è giusto vivere questo spazio e soprattutto questo faro. Grazie a Enrico Simonetti. Grazie e volevo dire una cosa, io ho lanciato questa idea e spero che un domani possa vedere la luce di fare qui dentro il primo museo dei fari d'Italia. Pensate che non esiste uno ed è veramente un peccato, la Puglia sarebbe da questo punto di vista virtuoso. Grazie ancora Enrico Simonetti. Andiamo avanti con la violenta rissa ieri sera tra stranieri e un gruppo di baresi avvenuta in Piazza Moro. Oggi siamo andati per raccogliere la denuncia di commercianti e residenti che chiedono più controlli nella zona. Sentiamo. Sarebbe stata una parola di troppo da parte di uno straniero nei confronti di una ragazza di 16 anni a provocare la rissa che ha seminato attimi di panico ieri sera in Piazza Moro. Un violento litigio accaduto poco prima delle 21 che ha visto coinvolti alcuni extracomunitari e un gruppo di giovani baresi. Sul posto è immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno cercato di placare lo scontro e hanno arrestato due giovani cittadini gambiani di 19 e 22 anni per esistenza e lesione a pubblico ufficiale e nel caso del 22 anni anche per lesione rapina aggravata. L'ennesimo scontro che pone Piazza Aldo Moro teatro di episodi di violenza sotto gli occhi di turisti e cittadini baresi che richiedono più controlli nella zona. Siamo abbastanza rammaricati di questo ennesimo episodio violento. Nel tempo abbiamo detto più volte che questa piazza e tutta questa zona deve essere riqualificata. Avvengono risse c'è lo spaccio, ci sono tutta una serie di cose che a noi non stanno bene. E quindi più volte abbiamo chiesto il recupero e l'intervento delle istituzioni. Ci sono state ma non sono sufficienti. La stazione è un punto molto importante sia perché arriva gente, arrivano i turisti e il biglietto da visita della città o meglio l'ingresso della città che poi trova Piazza Moro e poi trova Piazza Umberto. Quindi noi dobbiamo prepararci a migliorare questa zona e a frequentarla. E la denuncia di episodi simili all'ordine del giorno nella piazza della stazione centrale di Bari arriva anche dai commercianti della zona che si dichiarano stanchi della situazione e che richiedono interventi da parte delle istituzioni per far sì che Piazza Aldo Moro diventi un buon biglietto da visita della città di Bari. La stazione che dovrebbe essere un bigliettino da visita per chi viene da fuori, quindi chi viene da fuori vede questo scempio tutti i giorni. Quindi ci vorrebbe un po' più di controllo, un po' più di pulizia. Protesta dei residenti di Valenzano questo pomeriggio contro la stangata Tari. I residenti della cittadina alle porte di Bari da circa due anni in amministrazione straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio per presunte infiltrazioni mafiose si sono dati appuntamento davanti al Palazzo del Comune dopo gli aumenti registrati nell'ultima tassa sui rifiuti, più salati a causa dell'applicazione del nuovo regolamento. In base ai nuovi criteri le nuove tariffe vengono calcolate su una parte fissa e una variabile sul numero degli occupanti con una distinzione tra utenze domestiche e quelle commerciali. La mobilitazione è partita via social per concludersi in piazza oggi con il grido d'allarme lanciato dai residenti perché fonte dei rincari denunciano i cittadini. Il servizio è inefficiente. Al via i saldi estivi abbiamo chiesto ai commercianti baresi come è andato il primo weekend di vendite promozionali. Vediamo. Partenza a rilento per la stagione dei saldi estivi a Bari. Il primo weekend infatti ha fatto registrare un discreto aumento delle vendite rispetto agli anni passati dovuto anche ai cittadini baresi che hanno preferito le gite fuori porte a una giornata di mare allo shopping sfrenato. C'è stato un piccolo movimento il primo giorno sabato mattina ma dopodiché è andato scemando. Domenica si è lavoricchiato un po' con il turista giusto la mattina ma dei pomeriggio via Giro e tutto il centro era pienamente vuoto. La gente stava al mare praticamente non ha pensato assolutissimamente al fatto dei saldi. C'è parecchia gente in giro che aveva già ammirato i vari saldi di inizio stagione quindi però avendo avuto una stagione diciamo intermedia diciamo positivamente parliamo positivamente. Forse il fine settimana abbiamo sofferto un pochino il sabato pomeriggio e la domenica che chiaramente hanno tutti optato per andare al mare e cosa abbastanza giusta io lo dico sempre che bisognerebbe pensare in maniera diversa a pensare anche a un cambio di orari. Tuttavia non manca la forte presenza di turisti che acquistano nei negozi della città approfittando dei prezzi sempre più vantaggiosi e della qualità dei prodotti. Devo dire che c'è un cambiamento negli ultimi due stagioni vediamo molto turismo quindi finalmente abbiamo capito che Bari come città capoluogo e con un mare così vicino deve necessariamente sfruttare il turismo e quindi bisogna pensare a una città molto più aperta anche durante l'ora di pranzo, diciamo d'estate un po' difficile. Però sarebbe carino vedere i negozi aperti fino a tardi con un'apertura ritardata. Io sono sempre dell'idea che i negozi andrebbero aperti alle 5 e mezza e chiusi alle 9 e mezza, 10. Siamo al calcio, prime visite mediche per i giocatori della SSC Bari, oggi il turno di Floriano negli Essimeli, domani toccherà invece la restante parte della vecchia guardia bianco-rossa, sentite. Simone che ha detto il dottore? Tutto bene, sono Edonio, tutto a posto, siamo carichi, non vediamo l'ora di iniziare perché quest'anno sarà un anno molto combattuto come è stato anche l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto quello step che tutti ci aspettavamo con la speranza che va bene come è andata quest'anno. Ai tifosi bianco-rossi che cosa ti senti di dire? Ma niente, di sostenersi come hanno sempre fatto e li aspetto a Bedollo. Il bentornato te l'hanno dato? Sì, hai voglia, tanti, tanti e questo mi fa piacere perché vuol dire che ho lasciato qualcosa di importante l'anno scorso. Come stai innanzitutto? Che cosa dicono i dottori? No, tutto a posto, per fortuna pure per quest'anno sto bene. Ti è mancata Bari? Beh, sinceramente fa sempre piacere ritornarci, quindi sono molto 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 contento di stare qui. Mancano ancora le ufficialità, però insomma questo Bari è una gran bella corazzata, soprattutto lì davanti, uno stimolo in più per te? Sì, sicuramente la società sta lavorando molto bene nel mercato, quindi se dovessero arrivare giocatori importanti che possono essere utili alla causa ci farebbe molto molto piacere. Ai tifosi che cosa ti senti di dire? Io ci metterò sempre il massimo impegno, come l'anno scorso e anche di più. E allora ci colleghiamo per l'ultimo collegamento live da San Cataldo per i 150 anni del Faro, ancora Barbara Cirillo. Allora Alessandra, vi presento Don Massimo D'Abbico, che è il parroco della piccola chiesetta qui a San Cataldo. Una piccola grande chiesa, perché dico grande perché tutto il quartiere in qualche modo si sviluppa intorno, no? E si in qualche modo unisce intorno proprio alla parrocchia che fa un po' da tre d'union tra i vari residenti. Sì, si riunisce anche intorno al faro c'è da dire intanto, anche se la parrocchia dovrebbe essere il faro in un altro senso, e quindi è bello vedere due fari, uno vicino, uno affiancato all'altro, che collaborano ad indicare la strada, ad indicare la terra ferma. Il quartiere si sta sviluppando ancora, si è sviluppato molto, e sicuramente la presenza cristiana trova sostegno in una chiesa piccola, ma come parrocchia, come tutte le parrocchie, vuole essere presente sul territorio e attualmente si sta impegnando a uscire nel territorio, diciamo un po' come anche Papa Francesco dà indicazione, una chiesa che è sempre missionaria, ma nei termini concreti diciamo che adesso si sta facendo realmente più missionaria, perché tutti i battezzati hanno bisogno di rincontrarsi con una novità di parola di Dio, perché purtroppo la tradizione nel tempo non ha saputo trasmettere ciò che la fede ha sempre indicato. Però possiamo dire che i residenti sostengono molto, con le piccole iniziative, la parrocchia, ecco perché dicevo prima, una comunità che si stringe intorno alla chiesa di San Cataldo, soprattutto per chi qui c'è nato. Certamente, adesso la questione è proprio perché tante nuove famiglie, giovani, si avvicinano, perché il quartiere si è sviluppato, allora c'è un nucleo storico che fa un po' da polo, il futuro è proprio questa reciproca apertura tra un nucleo storico e i nuovi arrivati. Che possano magari convivere, no? Maturare sì, maturare una presenza nel territorio che grazie a queste iniziative, e non solo queste, può consolidarsi ed impedire che rimanga un quartiere, diciamo sulla falsarica di quelli dormitorio, quando le sue caratteristiche, il mare vicino, la bellezza del quartiere, non lo può lasciare come quartiere dormitore, nessuno ha questa, diciamo, intenzione, però c'è bisogno di iniziative da un lato, e i fedeli sono impegnati anche in associazioni culturali, si danno da fare, ringraziando il cielo, ma c'è bisogno anche di alcune strutture che consentano, come ad esempio negozi, che consentono le persone di fermarsi qui per la spesa o altro. Di vivere, di vivere la bellezza, lo ha detto lei prima, la bellezza di questo quartiere, perché insomma il mare, il faro e soprattutto la gente la dice lunga sulla storia, poi sul presente di questo quartiere. Grazie a Don Massimo D'Abicco per essere stato con noi. Prego, grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, soprattutto a lei, intanto qui la serata continua, lo diciamo anche chi fosse in ascolto, perché continuerà anche oltre le 22, con tanta musica qui al Giardino del Faro. Linea allo studio. Grazie, Barbara, grazie ai tuoi ospiti, noi ci fermiamo, breve posa pubblicitaria, l'estate con noi, tra poco con Fresco d'elezione, con il professor Stefano Bronzini, appena incoronato, magnifico rettore dell'Ateno di Bari, lo conosceremo, conosceremo anche i suoi progetti per questi sei anni alla guida dell'Ateneo Barese. A tra poco.